Il Lecce si accinge a prepararsi al meglio a questa nuova stagione calcistica in Serie A, un palcoscenico sicuramente importante direttore, peraltro per il settimo anno con lei alla guida tecnica generale. È uno stimolo importante o si perdono gli stimoli dopo tanto tempo? Ci si abita un po'? No, possono essere persi se è da qualche altra parte, ma nessun direttore penso perderebbe mai uno stimolo sapendo di fare il campionato di Serie A, un campionato così complicato, così difficile. Immaginiamoci per uno come me che la fa con la squadra del suo territorio, dove sappiamo tutti che siamo tutti coinvolti, anzi una responsabilità in più e anche un orgoglio, perché come hai detto te, sette campionati di Serie A su 11 e tre di Serie B vinti, questa cosa mi inorgoglisce molto, ma l'hai ricordata e quindi mi fa molto piacere, perché non è facile. Un'impresa, riuscirci come sarà un'impresa è una sfida quella di ripartire ancora una volta dopo la salvezza dello scorso anno, compiere un'altra impresa che forse potrebbe sembrare anche irripetibile, però noi ci dobbiamo provare, dobbiamo dare noi fuori dal campo il meglio, i ragazzi dentro il campo qualcosa ancora di più. Ecco, vediamo, mister D'Aversa ci sta mettendo davvero tutto se stesso in questo ritiro per cercare di dare la sua identità alla squadra. Al lavoro in campo corrisponde anche un lavoro fuori dal campo, avete messo a segno, ha messo a segno quest'altro colpo di mercato, Raffia che sarà qui in ritiro già nella giornata odierna e poi parleremo magari anche degli altri colpi, ma intanto questo colpo da dove nasce? Ma, ho detto di D'Aversa, del mister è nuovo perché è l'altro ciclo che stiamo andando ad affrontare, è un ciclo che si è concluso con la promozione in Serie A, con una salvezza, con una promozione della primavera, con uno scudetto della primavera, quindi un ciclo veramente che penso che sulla carta può sembrare irripetibile, però noi dobbiamo, come ho detto prima, dare il meglio e cercare di ripetersi. Non sarà facile, sapendo pure che, come hai detto te, noi andiamo, dovendo dare più sfogo al virtuosismo, alle idee, andare a prendere calciatori che magari al grosso pubblico può essere una scelta piena di scetticismo, no? Perché arriva dalla Lega Pro, un ragazzo che non conosciuto, però sono queste le nostre sfide che ci debbono accompagnare. Vorremmo invece andare alla PlayStation, sarebbe più facile non sbagliare, comprare la PlayStation o comprare i nomi. Però questo non è possibile perché vogliamo essere sì virtuosi, ma essere in linea con la sostenibilità del nostro club. E' logico che questo a noi, a me e Stefano, ci porta a fare gli straordinari, anzi dire gli straordinari è poco, andare oltre quello che è il virtuosismo e la straordinarietà di riuscire a fare imprese del genere. Lo facciamo con tanto impegno, con tanta passione e speriamo che Raffia possa essere una scelta, come altre che ne abbiamo fatte, che possa portarci poi alla fine al risultato, all'obiettivo che ci prefiggiamo.